Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinito E io sono Stef, e questo oggi siamo su Pokemon Go! E visto che noi siamo arrivati al 17 e che oggi finalmente Pokemon Go è uscito in Italia Abbiamo deciso di fare una mini guida su come iniziare il gioco al meglio Ci teniamo subito a precisare che non consiglieremo in alcun modo né cheats e né trucchi Che vanno diciamo a rovinare o a imbrogliare l'esperienza di gioco Quindi diciamo che vi daremo dei consigli che noi abbiamo capito man mano che abbiamo giocato E che vi potranno aiutare ad avere una bella esperienza di gioco Esattamente, le prime cose di cui vogliamo parlare diciamo che servono per l'autonomia del telefono Dato che sappiamo benissimo che a livello di consumo sia di batteria che di connessione dati Scarica parecchio facilmente il telefono e dopo Magari ti capita che vuoi stare tutto il giorno in giro a cercare Pokemon Ti si scarica il telefono e non lo puoi più fare E spacchi tutto Esatto, proprio lanci tutto in terra Il primo consiglio serve per la connessione dati ragazzi In pratica esiste un trucchetto che ci permette di consumare meno connessione Come semplicemente quando siamo a casa connessi col wifi Possiamo andare nell'applicazione di Google Maps Esatto Proprio la classica Scaricare la zona dove viviamo Quindi la città o il paese dove viviamo In modo tale che quando andremo a giocare su Pokemon Go Noi utilizzeremo la mappa che abbiamo già scaricato offline E l'applicazione non avrà bisogno costantemente di aggiornare la mappa E di conseguenza scaricherà sia meno la batteria E utilizzerà meno connessione dati Esatto, questo è importante anche per chi ha pochi giga nel telefono come te Io invece ne ho tantissimi quindi non ho questo problema Il secondo consiglio che vi andremo a dire riguarda appunto la batteria Perché infatti all'interno dell'applicazione stessa di Pokemon Go Troverete un'opzione che si chiama risparmio batteria Se non ricordo male si chiama proprio così Lo voglio dire bene Praticamente voi l'attivate Capovolgete il telefono Fallo vedere per favore Ma guarda oleee Infatti lo schermo diventa nero Diciamo che è una sorta di stand by Proprio previsto all'interno dell'applicazione E quando voi girerete il telefono Guarda stai facendo vedere tutto Sì sono bravissimi Sono tipo quelle che fanno vedere i mobili Guardate com'è bello questo mobile Noi materassi Esatto È molto soffice Allora dicevo Quando girate il telefono Come avete visto Lo schermo diventa nero Quindi come avete visto Quando il telefono si capovolge Diventa lo schermo nero Ma l'app rimane in funzione Quindi diciamo che voi girate col telefono così Se lo sentite vibrare Rigirate il telefono E potrete catturare i vostri Pokemon Però almeno questo vi permette di non consumare batteria Se ad esempio dovete fare qualche pezzo di strada In cui camminate molto O cose del genere Esattamente Diciamo che se vedete che avete un pezzo Dove intanto non ci sono Pokestop Non c'è qualche Pokemon importante da cercare nelle vicinanze Potete tranquillamente metterlo in risparmio energetico E se trovate comunque qualche Pokemon Vi avverte lui E per di più Comunque vi conta i chilometri che fate Quindi per schiudere le uova Anche quello c'è Quindi Esatto Anche lì non c'è nessun problema È in pratica una sorta di standby L'app rimane in funzione Ma non consuma la batteria Che consumerebbe rimanendo attiva Esattamente Passiamo ad un altro argomento Questa probabilmente è una cosa che già tutti sapranno Ormai sì Sì ne hanno parlato in molti Allora c'è la possibilità di avere anche Pikachu Come Pokemon starter Rispetto a Charmander, Squirtle e Bulbasaur Voi praticamente quando iniziate Vi chiederà subito il gioco che Pokemon volete prendere Esatto Quindi avrete l'opzione di questi tre Pokemon starter Se voi però non scegliete niente E vi allontanate dal punto Diciamo che vi fate un giretto Andate fuori Sì bisogna camminare un pochettino Portate a passeggio il cane nel mentre Non lo so Non lo so Diciamo che si può un po' camminare Dopo qualche tentativo Ora non so quanti di preciso Però devi stare un po' a girare intorno Sì praticamente ogni volta che ci spostiamo un po' Ricompaiono i tre Pokemon Ricompaiono sempre Charmander, Bulbasaur e Squirtle Però a furia di farlo A furia di farlo A un certo punto comparirà anche Pikachu Assieme a quei tre A quel punto basterà semplicemente Cliccare Pikachu Cliccare Pikachu e catturarla La vecchia maniera E avremo Pikachu come starter Quindi una cosa carina Sì una cosa un po' diversa Noi non lo sapevamo Quando abbiamo iniziato No noi non lo sapevamo Infatti tutti e due abbiamo preso Charmander Quindi non lo so Se volete un Pokemon un po' diverso Diciamo che c'è la possibilità Di avere anche Pikachu Una cosa che abbiamo notato A furia di giocare salendo di livello È che la cosa più importante di tutte nel gioco È senza ombra di dubbio Il livello dell'account Le palestre sono importanti Catturare Pokemon è importante Evolvere i Pokemon è importante Ma il livello dell'account ragazzi È senza dubbio la cosa più importante del gioco Dato che più saliremo di livello Più i Pokemon salvatici che andremo a trovare Saranno più rari e più potenti Quindi un consiglio che vi vogliamo dare Perché abbiamo sbagliato anche noi All'inizio del gioco È di non potenziare Di non evolvere nessun Pokemon all'inizio Semplicemente perché Noi magari abbiamo un PJ da 70 di potenza Sprechiamo un sacco di caramelle Un sacco di polvere per potenziarlo E magari a livello 15 Trovi un PJ direttamente a 350 Quindi in questo modo Proprio si capisce che è inutile Potenziare i Pokemon E quindi converrà a conservare Sia le caramelle sia le polveri Per quando saremo di livello un po' più alto In pratica Quindi bisogna avere pazienza Lo so che all'inizio vi verrà voglia Di potenziare tutto Di avere subito Pokemon forti Ma un consiglio che vi diamo È che noi appunto abbiamo sbagliato Io la farò nel mio account Dato che tanto ormai l'ha sbagliata tu Quindi approfitto pure io Di questi bellissimi consigli Antipatica È quella di fare tutto Quando si è di livello un po' più alto E infatti appunto per questo Un'altra cosa che consigliamo È di catturare il più possibile I Pokemon anche che abbiamo già Perché questo poi ci permetterà Di guadagnare tante caramelle Di quel Pokemon Esatto Di poterli evolvere Quando saremo più alti di account E quindi guadagnare ancora più esperienza Esattamente Anche questo è un errore che abbiamo fatto Nell'inizio vedevamo sempre i stessi Pokemon Tutti i errori che abbiamo fatto noi Lo sottolineiamo Esatto Dai nostri errori potrete fare un account fortissimo Quindi almeno Diciamo siamo stati dei martiri utili Anch'io potrò fare un account fortissimo Dei tuoi errori Non devi sottolinearlo No 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 Lo vorrei dire perché sarò la prima A utilizzare questi consigli Guarda ti spacco la faccia E comunque Nell'inizio del gioco Ad esempio Trovavamo tantissimi Ekans E stavamo evitando i catturali Perché facevamo Eh no dai Ce l'abbiamo già Facciamo bla 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 Invece conviene catturarli sempre Sempre e comunque Tutti i Pokemon Anche 50 volte Perché quando saremo più alti di livello Potremmo appunto Farli evolvere E più caramelle abbiamo Più ne possiamo far evolvere E' una tattica carinissima che c'è E' quella di attivare il fort nuovo Che ci permette di ricevere Il doppio dell'esperienza Da tutto quello che facciamo Per 30 minuti E in quel momento Far evolvere tutti i Pokemon che abbiamo Quindi praticamente Catturare Pokemon come dei pazzi Per tipo una settimana A quel punto Attivare un fort nuovo E far evolvere tutto E' una cosa Ed è una tecnica che abbiamo fatto Anche in un altro video Esatto Se volete andare a vederla E ti sei dimenticato Che anche Assieme all'evoluzione di Pokemon Possiamo conservare delle uova Diciamo Metti abbiamo delle uova Che si stanno per schiudere Noi aspettiamo Ci fermiamo un attimino Attiviamo un fort nuovo Sì Attiviamo il chip Che sarebbe la Roma Che ci permette di catturare più Pokemon Esattamente Così prenderemo più esperienza Dei Pokemon che catturiamo Dei Pokemon che facciamo evolvere Dalle uova E facciamo un bordello di esperienza Esattamente Ma ne facciamo tantissimo Secondo noi organizzando bene tutto E preparando tutto Per una settimana Quindi andando a sfruttare Al meglio Il fort nuovo E il chip Secondo me si può fare anche Ad esempio Dal 10 al 16 In 30 minuti Quindi è una roba incredibile E ci tengo anche a dire Che secondo me Questa non è una cosa Che rovina L'esperienza di gioco Perché comunque Per preparare tutti i Pokemon Da evolvere Per preparare le uova Che comunque Bisogna Dei camminare Dei camminare Noi ad esempio Ci abbiamo messo tantissimo tempo Abbiamo fatto un video In cui abbiamo fatto tre livelli Come ho detto poco fa Però ci abbiamo messo davvero davvero tanto A catturare i Pokemon A prepararli per farli evolvere Ad essere lì per schiudere le uova Quindi comunque Diciamo che ci vuole Almeno una settimana Secondo me Bella preparazione Il modo migliore Per sfruttare gli oggetti Che il gioco ci sta dando Cioè il gioco ti dà un fortuno Ti dice Ti raddoppio l'expo Per 30 minuti Poi hai tu La decisione Di come sfruttarlo Cioè lo puoi sfruttare Un pochettino Per magari Sfruttare due palestre E alla fine un po' lo sprechi O lo puoi sfruttare al massimo Quindi alla fine Noi stiamo semplicemente Trovando il miglior modo Per sfruttare questi oggetti Anche perché comunque Questi oggetti non sono illimitati Non ne abbiamo tantissimi No infatti Ci tengo anche a precisare Che ad esempio Un fortuno uovo Nei Pokéstop Non si può trovare Si trova soltanto Ogni 8 livelli Come ricompensa del gioco Esatto Più o meno Ogni 4-5 livelli Diciamo che è una cosa Che non abbiamo spesso E secondo me È una buona idea Poterla sfruttare al meglio Piuttosto che magari Sfruttarla Cioè sfruttarla poco E sprecare quella mezz'ora Di fortuno uovo Esattamente Ultimo argomento Di cui andremo a parlare È quello che riguarda Le Pokéball Allora come tutti avrete notato Quando siete lì Per catturare un Pokémon Esso ha un cerchio attorno Un cerchio colorato Che indica la difficoltà Di cattura Verde ovviamente Sarà più semplice Arancione medio E rosso difficilissimo Esattamente E in quel momento ragazzi Se noi andremo ad utilizzare Gli oggetti che abbiamo nella borsa Ad esempio Se noi abbiamo Pokéball e Megaball Andrando a cambiare Ad esempio Da Pokéball a Megaball Il cerchio potrà cambiare colore Quindi diciamo Che se noi vediamo Che un Pokémon è rosso Andando ad utilizzare La Megaball Magari diventerà arancione Diventerà più semplice Ovviamente perché la Megaball È più forte Esattamente Quindi diciamo che bisogna usare Questo cerchio Per capire che tipo di oggetti usare Quando conviene usare una Megaball Quando conviene restare sulla Pokéball Quando conviene dargli una bacca Da mangiare Per avere più possibilità E quindi bisogna farsi Delle strategie interessanti Su questa cosa Perché altrimenti Le Megaball finiscono Perché ne abbiamo poche Esatto Sì le Megaball Sono davvero poche Rispetto alle Pokéball È un problema Vanno sfruttate al meglio Altra cosa di cui andremo a parlare Che adesso direi tu Perché ti piace tanto spiegare È la qualità del tiro Esattamente Praticamente Quando noi teniamo in mano Diciamo una Pokéball Avete visto Che la teniamo ferma col dito Così Esattamente C'è il cerchio che si ingrandisce E si rimpinciolisce Tutto il tempo Cioè diventa piccolo Poi diventa grande E continua all'infinito Praticamente Se noi riusciamo a centrare il cerchio Quando è piccolo Quando è piccolo Proprio piccolo piccolo Noi faremo un tiro eccellente Ovvero abbiamo una qualità di tiro Quindi quando è minuscolo Se noi colpiamo con la Pokéball Ci darà eccellente Quando è piccolo Ma non troppo Ci darà bravo Quando invece È praticamente intero E comunque lo centriamo Ci darà buono Che cosa sono questi tiri Semplicemente l'esperienza Che ci darà in più Quando abbiamo catturato il Pokémon Quindi In sostanza Se faremo un tiro buono Ci darà 10 in più di esperienza Esatto Un tiro bravo 50 in più E un tiro eccellente 100 in più Con 100 praticamente Stiamo raddoppiando l'esperienza Perché quando prendiamo un Pokémon Che abbiamo già Ci dà 100 per aver preso il Pokémon E 100 per il tiro eccellente E pensate se in quel momento Avete pure il fortuno attivo Quanta esperienza vi dà Quindi è importantissimo Anche essere bravissimi A catturare il Pokémon Un'ultima cosa Che ti stai dimenticato Ok È praticamente Quando tu sei lì Perché a tirare appunto il Pokémon Tanto l'argomento è sempre quello Se teniamo ferma la Pokémon Prima di tirarla Quella inizierà a roteare Quindi poi tu la tiri Fai una palla curva Una palla curva ho detto È una Pokémon Una Pokémon curva È una palla Va bene Mi sono avuto i termini di calcio Non so per quale motivo Quindi se quella Pokémon curva Andrà a segno Ci darà un altro bonus In più di 10 esperienze Esattamente Io lo sconsiglio abbastanza Perché alla fine Bisogna capire Quanta curva fa Quindi bisogna allenarsi E alla fine Per 10 punti di esperienza Secondo me si va Un po' a sprecare Pokéball e basta Secondo me è abbastanza difficile Io ad esempio Mi esce a casaccio Ti dico la verità Quando è curva Perché l'ho tirata io Con il dito storto In miscita a casaccio Diciamo che per la fatica Che ci vuole Per riuscire a tirar la curva Centrarla E per soli 10 di esperienza Secondo me non ne vale troppo la pena Diciamo che è più importante Centrare il cerchio Quando è piccolo Esattamente Ok ci fermiamo così Ci teniamo giusto a dire Un'ultima cosa Ovvero che ovviamente Questo gioco è più divertente In compagnia Quindi se avete amici Organizzatevi Uscite assieme Andate insieme A spaccare la faccia Alle palestre Perché ovviamente Andando in gruppo Si può fare davvero tanto Una cosa che magari infatti Non sanno Che non abbiamo detto È che quando andate Con degli amici A attaccare una palestra Di una fazione diversa Potete attaccare In contemporanea I pokemon Della palestra avversaria Quindi è più divertente Questa cosa è molto utile Rende molto più semplice Il tutto Perché comunque Così andrete A far perdere Molta meno vita Ai vostri pokemon E sarà più facile Conquistare le palestre Inoltre vi spingiamo Anche ad essere poco timidi Con le persone che incontrate Alla fine ragazzi È bello anche Fare nuove amicizie Quindi magari se capite Che una persona Davanti a voi Sta giocando E avete voglia Salutatele E chiacchierateci Un pochettino Che magari vi trovate Il nuovo amico O la fidanzata Magari Dici si può trovare Anche così E magari si È una bella tecnica Tu esci per cercare Pokemon Ti trovi la fidanzata Così c'è Anche che catturare Un pokemon raro Sei fidanzato Non si sa perché Bene che si gioveci così Se è usciuta Ascettici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao